Sono le sette mattutine. La temperatura è calata di una decina di gradi. La gurgona sullo sfondo, dove c'è anche la barchetta. Finalmente il caldo è tramontato. Si staglia in modo nitido sul fondo di zona d'elba. E' un po' l'asso che diventa. Sostanzo vedere il mare in questo modo l'ha rincorato. Mi ha dato la boccata a mio figlio. E' un po' l'asso. Basta. E' un po' l'asso.